6 rimedi naturali per migliorare la circolazione. Il pepe di Cayenne è un antiossidante che può essere utile per eliminare i lipidi in eccesso e per pulire il sangue, favorendo la circolazione sanguigna. La circolazione sanguigna è fondamentale per la salute, poiché è responsabile di distribuire l'ossigeno e tutti i nutrienti essenziali necessari per gli organi, le cellule e tutte le parti dell'organismo. In seguito al ruolo che svolge nel corpo, il sangue è conosciuto anche come flusso della vita e non servono molte spiegazioni per avere un'idea di quanto possa essere grave soffrire di complicazioni a riguardo. I disturbi del flusso sanguigno sono una conseguenza del consumo eccessivo di cibo da fast food, di livelli alti di colesterolo e degli effetti nocivi dei radicali liberi. Tutti questi elementi provocano un indurimento o un'ostruzione delle pareti arteriose, il che impedisce la circolazione adeguata del sangue. L'aspetto più preoccupante è che, con il tempo, scatenano problemi più gravi e influiscono sullo sviluppo di malattie cardiovascolari, diabete e danni epatici e renali. Per fortuna, grazie all'adozione di buone abitudini di vita e al consumo di alcuni rimedi fatti in casa, possiamo migliorarne il corretto funzionamento, riducendo così tutti questi rischi. 1. Infuso allo zenzero La radice di zenzero è un ingrediente dalle proprietà antinfiammatorie e anticoagulanti che possono essere sfruttate per la cura dei problemi circolatori. Anche se fa bene aggiungere lo zenzero a diverse ricette, il modo migliore di sfruttare tutte le sue virtù è con un infuso naturale. Ingredienti 1 cucchiaio di radice di zenzero grattugiata, 10 g, 1 tazza d'acqua, 250 ml, come prepararlo Mettete a bollire una tazza d'acqua e aggiungete la radice di zenzero grattugiata. Lasciate in infusione per 10 minuti, chiuso con un coperchio e poi bevete. Bevete questo infuso una volta al giorno, tutti i giorni. 2. Infuso di equiseto Questa pianta, famosa per le sue proprietà diuretiche, favorisce il flusso sanguigno grazie alla sua capacità di ridurre le infiammazioni ed eliminare la ritenzione idrica. Ingredienti 2 cucchiai di equiseto, 20 gr, 1 tazza d'acqua, 250 ml, come prepararlo come per l'infuso allo zenzero, mettete a bollire l'acqua e versatela in una tazza insieme all'equiseto. Dopo 10 minuti, filtrate la bevanda e bevete. Potete berne fino a due tazze al giorno. Usate questo rimedio almeno tre volte a settimana. 3. Infuso di rosmarino La pianta di rosmarino è un grande aiuto per eliminare le tossine ed evitare la formazione di trombi nel sistema circolatorio. Ingredienti 1 cucchiaio di foglie di rosmarino, 10 gr, 1 tazza d'acqua, 250 ml, come prepararlo in una tazza, aggiungete le foglie di rosmarino e l'acqua bollente. Tappate bene la tazza e lasciate in infusione per 10 o 15 minuti. Assumete le stesse dosi tutti i giorni. 4. Pepe di cayena Grazie alla sua ricchezza di antiossidanti e alla sua capacità di eliminare i lipidi in eccesso, il pepe di cayena è un altro rimedio efficace per pulire il sangue e facilitare la circolazione. Ingredienti 1-4 di cucchiaino di pepe di cayena, 1,2 gr, 1 bicchiere d'acqua, 200 ml, come prepararlo Diluite il pepe di cayena in un bicchiere d'acqua tiepido e bevetelo tutti i giorni a stomaco vuoto. 5. Spremuta d'arancia e aglio L'aglio è uno dei migliori ingredienti per proteggere la salute cardiovascolare. È ricco di antiossidanti, vitamine e minerali che depurano il sangue, eliminando i lipidi accumulati e le tossine. La spremuta d'arancia, invece, è una fonte ricca di vitamina C e fibre, due nutrienti fondamentali per rafforzare le arterie e impedirne l'indurimento. Ingredienti 2-2 spicchi d'aglio crudo 5 arance Come prepararlo Spremete il succo delle 5 arance e mischiatelo con i due spicchi d'aglio ben schiacciati. Se volete, potete frullare il tutto per ottenere una miscela più omogenea. Bevete a stomaco vuoto per almeno due settimane. 6. Frullato di melone e uva bianca Il consumo regolare di questo frullato naturale è un aiuto per eliminare i problemi circolatori, poiché contiene potenti antiossidanti che impediscono la formazione della placca di grasso sulle pareti delle arterie. Ingredienti 1 fetta grande di melone 1 tazza di uva bianca 90 gr 4 foglie di menta 1 bicchiere d'acqua 200 ml Come prepararlo? Lavate bene tutti gli ingredienti. Tagliate a pezzetti il melone e tritate le foglie di menta. Mettete tutti gli ingredienti nel frullatore e accendete per qualche minuto, fino a ottenere una miscela omogenea. Bevete questo succo a stomaco vuoto tre volte a settimana. Ricordate che, oltre a usare questi rimedi, potete mettere in pratica una routine di esercizi e adottare un'alimentazione che vi aiuti a ottenere migliori risultati. Grazie a tutti.